Prendo la cazzo de bombola del gas e la tricolo perché tutta sta storia mi ha rotto i coglioni Ciao a tutti ragazzi e bentornati sulla pagina di Dante's Hardware Io sono Patrick, mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi, di lasciare un like e di condividere Di cosa andiamo a parlare oggi? Allora oggi ne andiamo a parlare del casino che ci ha combinato purtroppo Nvidia Non per suo volere ma sia per il fatto del mining sia per il fatto della mancanza di schede video Per via della pandemia e per tutto ci siamo ritrovati senza scheda video Oltretutto se magari una persona dice ma magari ne spendo molto per una scheda video Ci posso riprendere qualcosa magari in mining perché no tanto lo fanno tutti è legale E Nvidia va a bloccare le schede Nvidia va a bloccare le schede, non sono bloccate su tutti gli algoritmi mining Ma su alcune parti stiamo aspettando tra l'altro l'uscita Ma che ci propone come bugia al mercato Nvidia? L'abbiamo già visto più o meno le schede che ci sono Partiamo dalla 3060 che a mio parere non è un gran prodotto Perché ci offre delle prestazioni paragonabili ad una 2070 super Che tra l'altro si comprava, ora con prezzi impensabili no Ma si comprava poco tempo fa con 550 euro Sappiamo che il prezzo di listino sarebbe intorno ai 350 Ma con i prezzi attuali è una board che possiamo prendere come minimo a 6-700 euro Se siamo fortunati che la troviamo Prezzo che dovrebbe essere quello di una 3080 per dire Quindi capite il problema che si pone E quindi sono tutte condizioni impensabili Il fatto di acquistare una scheda video Il fatto che ora grazie a questo mercato Una 1050 Ti che io ho comprato personalmente per una build 6 mesi fa e ho pagato 100 euro Ora si trova nuova a 250-270 euro GTX 1650 a scheda video da 150 euro Che ora non si trova sotto le 350 euro Ma ragazzi stiamo a scherzare? 350 euro per una 1650 Una scheda che va meno di un RX 580 Una scheda che con un R9 390X usata Che fino a poco tempo fa la troviamo sotto i 100 euro Si fuma, è una tragedia È veramente una tragedia Ora molti danno la corpa a Nvidia Ma dovete capire anche che ovviamente Nvidia non ha il modo di verificare le vendite Cioè non è che arrivi il tizio Beh io sono tizio a caio Faccio mining, dammi 300 schede No, Nvidia vende ai rivenditori Ha venduto anche privati le prime schede Ovviamente il rivenditore non è che gli va a dire Io ho venduto questa scheda a tizio a caio e sembronio Il rivenditore gli compra totte e gliele rivende A Nvidia ovviamente è un'azienda È una società per azioni A lei gli importa di fare il profitto Quindi lei non sa in verità a chi sta vendendo queste schede Lei sa che le deve vendere per ovviamente Reinvestire poi il fatturato che fa È ovvio come fanno tutte le grandi aziende E quindi a questo proposito Capiamo bene come possa essere difficoltoso Per l'utente finale questo problema Un ragazzo che si voleva fare una build con 500 euro per giocare Fino a 3-4 mesi fa 5 poteva comprarsi con 500 euro Una build con un 3.300X Con un 3.100X Ed una RX 580 O una GTX 1650 Se arrivava a spendere magari con qualcosa di risultato 240 euro per una scheda video si prendeva anche una GTX 1660 liscia Oggi è impensabile perché 500 euro ci costa una GTX 1660 Capite che è una cifra che è impensabile Da andare a spendere per una scheda di quel livello È veramente una cosa da matti insomma Capisco anche chi ha la necessità ora Per chi ha la necessità conviene sempre dare un'occhiata Con sicurezza ovviamente al mercato dell'usato Perché oggi andare a comprare una scheda video nuova È un massacro Ci sono alcuni bot su Telegram fatti da varie persone Che ci permettono se siamo abbastanza veloci E per abbastanza veloci intendo che se è scappata l'inserzione Tu dovevi premere da due minuti prima che era uscita Quindi anche lì ormai è diventato impensabile Con questi bot si riescono a prendere schede a prezzi decenti Dai mercati Amazon stranieri Dove a quanto pare sembra che ancora ci sia un qualche minimo di barlume di ragione Una volta ogni tanto quando escono queste schede Questi prezzi quasi decenti Perché sono comunque alti rispetto a quella che era la prezzistica iniziale Adesso purtroppo è così Adesso ci ritroviamo con delle RTX 3070 Che ci vengono vendute a 1300€ Delle RTX 3080 Che ci vengono vendute a 1800-1900€ E delle RTX 3090 che ci vengono vendute a 3000€ RTX 3060 Ti a 900€ Quando sapevamo che la 3060 Ti ci doveva costare 399€ La 3070 ci doveva costare 519€ La 3080 mi pare 719€ ma non voglio sbagliare E la 3090 intorno ai 1300-1400€ Quindi i prezzi non è che sono raddoppiati ma sono triplicati Stesso discorso ovviamente vale anche per le schede più vecchie Dove si vendono sull'usato GTX 1080 a 600€ Che va quanto una 2070 Super Capite che è impensabile Poi anche vecchia consuma come un pozzo Quindi è un'altra cosa impensabile RX 5700 XT che si ritrovano sui vari shop online a 900€ Prezzi da capogiro Ed è qui che entro in gioco io Non per l'RX non per altro Io voglio dare un segnale nel mio piccolo Contribuendo ovviamente con una spesa che è quello che è Ma non mi importa Voglio dare un segnale a questo mercato Io voglio dare un segnale e voglio far capire Quanto sono schifato in questa situazione Anche se sta cosa costa da fare Io siccome ho una founders Una 3080 founders Io adesso questa qui sul video La spacco a martellate Perché mi sono rotto le scatole Non ne posso più di queste schifezze Questa adesso io ci rimetto 1000 passa euro Perché sono riuscita a prenderla Usata a 1400€ Questa RTX 3080 founders Mi direte Tu sei matto Probabilmente Ma voglio dare un segnale Spero che chi te lo vede Veda sto video Perché veramente È una situazione triste Adesso la prendiamo E la andiamo a spaccare Ragazzi eccola Io non ve prendo in giro Io la metto qua Non prendo manco un martello Perché Mescoccia prende un martello Prendo la cazzo di bombola del gas E la tricolo Perché tutta sta storia Ma ha rotto i coglioni E fortuna che avevo stampato Un modellino 3D Perché col cazzo Che rompo una 3070 super Ci avete creduto Che la spaccavo Però È stato divertente Dai È stato divertente Scusate ragazzi Se ve l'ho fatta lunga Ma Era necessario Per La La magia No Comunque sì Modello stampato Con tanta fatica Di 30 80 founders Che Ha fatto la Sua fine Ovviamente Non odio nessuno Però Voleva essere qualcosa Di un po' goliardi Con questo momento di tristezza Per la mancanza Di schede video Per lo meno Per un attimo Magari spero di aver liberato Il cuore Di qualche Fan Che non ne poteva più Di non riuscire a prendere Neanche la scheda E ragazzi Se questo video vi è piaciuto Lasciate un like Condividete Iscrivetevi al canale E Ciao a tutti Da Dante Sarder Ciao